Il sistema della telecamera è un percorso. L'ha fatto tutti con le camere? Muovetevi. Di essere intervenuti quando ci sono avvenimenti importanti, la stampa è sempre dalla nostra parte. Come annunciato ieri con la nota ufficiale, oggi è il giorno della presentazione del nuovo allenatore del Foggia, Pasquale Padalino. Due parole su Pasquale Padalino che conosciamo tutti ma che fa sempre bene ricordare. Foggiano Purosangue, tutto il settore giovanile fatto come calciatore, esordio tra i professionisti a 16 anni. In una partita peraltro non è andata molto bene contro il Giare, ma comunque poi portò non quella partita ma quel campionato alla promozione in Serie B. Due campionati di Serie B, quelli dell'inizio dell'epopea di Zemanlandia. Ancora un campionato di Serie A, due campionati di Serie B che hanno portato alla promozione in Serie A. Poi ancora un campionato di Serie A nel 91-92. Due parentesi con il Bologna e la Lazio prima di ritornare. Il primo ritorno in rosso-nero ancora con il Foggia per chiudere in quella stagione l'esperienza con il Foggia. La sua esperienza da calciatore poi è continuata anche in grandi piazze come quella di Firenze. Da allenatore prende in mano un Foggia finito in Serie D nel 2012. Due stagioni in cui il Foggia ritorna tra i professionisti in C2 prima e in C1. Poi ancora esperienze da allenatore con il Grosseto, il Matera e il Lecce. Tornato a Foggia da avversario in queste due occasioni contro il Matera e contro il Lecce. Oggi, anzi ieri, l'ufficializzazione del terzo ritorno in rosso-nero. Questo è il tratto di Pasquale Padrina, a cui naturalmente do personalmente, ma lo diamo tutti quanti nel Foggia Calcio. Un grosso benvenuto e in bocca al lupo. Direttore. Buonasera a tutti. Mi ero ripromesso di non fare più presentazioni, ma mi è toccato a me anche oggi. Però ne sono contento e orgoglioso di rappresentare anche oggi la famiglia per presentare, anzi anche se è stato un cambio comunque doloroso, presentare il nuovo allenatore. Prima di tutto vorrei fare, a nome mio e a nome anche della famiglia, un ringraziamento comunque al mister che è a Grassadonia e al suo staff che comunque ha contribuito e ha accettato una sfida a luglio quando purtroppo ci davano retrocesso in Serie C. Purtroppo non è andata come ci aspettavamo e ringraziamo anche Pavone e il suo staff che ci ha aiutato in questa settimana delicata perché tra la domenica e il venerdì era troppo ravvicinato e ci siamo presi del tempo perché andava valutata bene questa scelta del nuovo allenatore a chi affidare questa squadra che pensiamo che ci possa dare dei risultati diversi. Quindi al di là di qualche contatto, qualche colloquio, la scelta della famiglia, del presidente Fares e la mia è stata quella di affidare la squadra a Badalino per tanti motivi. Pensiamo che sia la persona giusta, ne siamo convinti, che possa fare un lavoro che ci dia la soddisfazione che ci aspettiamo un po' tutti. Noi in primis, che abbiamo magari fatto un certo tipo di lavoro, ma anche tutti quelli che ci seguono, soprattutto i tifosi, per cercare di dare, tra virgolette, quello che secondo noi possiamo meritare. Oggi non so cosa possiamo fare, ma sicuramente abbiamo un mister motivato, ha un carattere forte, un mister che comunque già ci stava seguendo, già ci conosce, ha avvantaggiato, gioca in casa ed è una sfida doppia, positiva, ma anche negativa. Si gioca tanto, però una persona, secondo me, questo parlo a nome mio personale, che accetta una sfida del genere vale doppio. È una sfida doppia, importante, quindi sa cosa può rischiare, tra virgolette, ma sa quanto può mettere per questa città. Quindi secondo me è una scelta anche da parte sua molto importante, è accettato di buon grado. Quando è stato chiamato dal patrono, eravamo insieme, gli hanno detto in Foggiano di venire qua, io ormai lo capisco, di scendere alla svelta per iniziare a parlare. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare la partita di venerdì, ieri abbiamo ufficializzato e stamattina ha condotto il primo allenamento. Tra parentesi, insieme al mister ci sono i suoi collaboratori, che sono così magari si alzano, magari li conoscete, già li conoscete perché giocano in casa anche loro, c'è Di Corcia, Sergio e Paolo Fiore. Infine anche inserito nello staff del mister, viene rintegrato di Bitonto Nicola come prattore dei portieri. Questo è lo staff iniziale di questo mister. Quindi, ecco, in nome della famiglia diamo il benvenuto al nostro nuovo mister e speriamo che ci possa dare tutte le soddisfazioni che gli abbiamo chiesto. Insomma, di cominciare a prendere possesso di questa squadra e poi vi lo anticipo, così magari è chiaro che dopo se si parla di mercato è prematuro e poco rispettoso perché con l'allenatore ci siamo parlati negli ultimi due giorni e quindi non ci siamo ancora, tra virgolette, frequentati. Io non lo conosco da un punto di vista personale, se mancherebbe, però da un punto di vista professionale, visto che faccio questo lavoro da 12 anni, ho visto qualche sua partita e secondo me è la persona che ci può dare veramente una mano a trovare la strada che forse si era smarrita. Questo è il messaggio. Quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, a nome della famiglia, a nome mio e a nome di Fales, per darci una mano. Tutto qua. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Vedo che siete in molti, alcuni li conoscono. E parto subito con i ringraziamenti al direttore che mi sta presentando e alla famiglia che rappresenta in questo momento, Sannella, insieme a Fares, di questa possibilità e di questa opportunità che ovviamente dal mio punto di vista non posso assolutamente sbagliare, ma non solo perché ci rimetto di mio, ma perché ci rimettere la squadra della mia città. Ed è l'ultima cosa che vorrei fare, deludere i miei concittadini, che da un punto di vista morale e sentimentale sicuramente non farò perché insieme ai collaboratori che ben conoscete siamo di Foggia e quindi da questo punto di vista non potremmo essere sicuramente attaccabili. Da un punto di vista professionale dovremmo ricevere sicuramente dei... potremmo ricevere sicuramente dei pareri positivi, negativi, quello dipenderà anche molto dai risultati, però da un punto di vista sentimentale sicuramente no. Mi accodo a quello che ha detto il direttore, ringrazio anch'io Gianluca Grassadogna, lo saluto, quando c'è un esonero non è mai piacevole, ci siamo passati, abbiamo scelto di fare questo mestiere e quindi in preventivo c'è anche questa possibilità. Però si volta pagina, guardiamo avanti il tempo di conoscere un po' meglio quella che è la situazione interna e come diceva il direttore, nonostante ci sia una conoscenza, perché da tifoso seguivo il Foggia, oltre che da tecnico, e quindi da certi punti di vista sono abbastanza avanti, però finché non si è all'interno di uno spogliatoio certe dinamiche si fanno fatica a conoscere. Per il resto credo che, insomma, dal mio punto di vista ribadisco il concetto, c'è il desiderio di ritrovare quella strada smarrita attraverso un lavoro attento con la collaborazione di tutti coloro che partecipano alle sorti di questa società, in primis i calciatori, gli addetti ai lavori che siamo noi e anche la famosa squadra invisibile che abbiamo lasciato cinque anni fa quando iniziamo un percorso partendo dalla Serie D. Questo è il nostro intendo, spero che anche con la vostra collaborazione si possano accelerare questi tempi perché ben sapete che da soli nessuno fa nulla. E nel nostro intento, alla base di ciò, c'è una struttura che parte, come dicevo, dai tecnici, dal direttore, dalla famiglia Sannella, Fares, Stampa e ai tifosi che sono poi la parte che di solito più risente di quelli che sono i risultati. Quindi mi fermerei perché è abbastanza anche evidente il mio stato d'animo, sono felice, mai come in questo momento sono in difficoltà nel trovare le parole giuste, ma la sostanza è che tutti insieme abbiamo un solo obiettivo, tirare dritti avanti e cercare di scalare più posizioni possibili e far tornare il sorriso a tutti. Grazie. Comincio io. Attilio De Matteis, Teledauna. Certo che torni a casa, nella tua casa e non nascondi un filo di emozione e quando c'è l'emozione è una spinta in più, senza alcun dubbio. Faccio una domanda, anche se conosco già la risposta. Il Foggia è terzo ultimo in classifica, ma questi puntano ai play-off. Hanno detto la Serie A in due anni, se possibile, anche subito. Sembra strano questa domanda perché è terzo ultimo in classifica, le cose si sono messe male, ma l'obiettivo rimane sempre quello ambizioso, concordato con il vertice? ovviamente sono l'ultimo arrivato e arrivare oggi e pensare di poter dare delle risposte certe è un tantino diciamo presuntuoso. Però io credo che chi intraprende un certo percorso in una città come Foggia, che ha una certa storia, in una società così ambiziosa, non possa far altro che ambire a massimo. Ovviamente allo stato attuale la realtà ci dice che siamo terzultimi, non possiamo dire un qualcosa di diverso, però l'ambizione deve rimanere tale e quale. Non possiamo pensare oggi di porci dei limiti. ovviamente prima di fare dei passi bisogna farne altri. L'idea è quella di ritrovare una certa strada che ci consenta magari da qui al tempo necessario che occorre per recuperare quelle posizioni che forse questa squadra merita. Ovviamente non sarà un lavoro e soprattutto un risultato immediato, ci auguriamo che attraverso il lavoro di poterlo però raggiungere. Quattro anni fa andasti via in pratica perché c'era una situazione di incertezza circa il futuro della società dal punto di vista societario e anche di altre problematiche. Oggi torni in una situazione che al momento non è facile perché come diceva Tidio è terzultimo in classifica deve scalare questa classifica per mantenere gli impegni presi sia dalla società anche dai tecnici dal direttore sportivo e quant'altro. Quello c'è di riportare il Foggia comunque lì dove merita nel giro di due anni. È più facile adesso entrare con la consapevolezza che però questa società nonostante le difficoltà di classifica ha una società forte ha un'organizzazione che si è data in questi ultimi anni di un certo spessore? intanto non era facile prima non lo è oggi ovviamente le due società non possono essere messe sullo stesso piano all'epoca potevano fare quello potevano fare quello le persone che ci hanno messo la faccia all'epoca avevano quello spessore e all'interno di quel gruppo si è cercati di fare il massimo come sempre ripeto lo stimolo principale lo dà la storia di questa società di questa squadra e di questa città poi non potevamo fare di più credo che anche coloro che ai tempi ci misero la faccia abbiano fatto il massimo non a caso si parlava di solidarietà foggiana ognuno di noi ha provato a fare il meglio di quello che poteva dai calciatori ai presidenti ai dirigenti ai massaggiatori senza badare a quello che poteva essere un ritorno economico se vogliamo dircela tutta che passava sicuramente in secondo piano e dal nostro punto di vista lo è stato anche questa volta le sfide a Foggia non sono mai sfide facili non c'è un periodo o una condizione che ti mette quella serenità perché Foggia ha bisogno di adrenalina lo sappiamo siamo di qua tutti quanti e quindi c'è sempre la ricerca di fare quel qualcosa in più per arrivare dove tanti anni fa insieme abbiamo vissuto delle annate bellissime con allenatori che hanno fatto la storia non solo a Foggia ma anche in Italia e il desiderio è quello passarci attraverso due anni o anche prima come ha sottolineato Attilio bene questo non lo possiamo sapere ma nella programmazione ma soprattutto nel desiderio di ognuno di noi e della società in primis credo che ci sia questo come obiettivo ovviamente tutti i traguardi hanno bisogno di un percorso che può essere più o meno tortuoso più o meno semplice difficile però è attraverso queste difficoltà che noi abbiamo capito cosa significa far parte di questo progetto a Foggia non so se ho reso l'idea poi come in tutte le cose ci sono delle priorità e secondo me dietro un'organizzazione come quella che abbiamo oggi a disposizione a Foggia di cui dobbiamo essere fieri le priorità ci sono vanno affrontate al tempo giusto noi dobbiamo correre ma l'ambizione non ce la può sotterrare nessuno quella sì grazie buonasera Luciano Gallucci tutto campo punto it mister buonasera benvenuto bentornato a casa questo è il caso di dire l'ultima domanda gliela feci a Lecce nella vittoria del Foggia in quel di Lecce e lì ha iniziato la storia sei anni fa non cinque sei anni fa mi permetto di correre nel 2012 agosto 2012 sì al 2018 2019 sono sette anni sì cosa cosa ha trovato di cambiato chiaramente è cambiato completamente la serie siamo in cadetteria non siamo più in serie D però a livello di organizzazione a livello di quello che lo spirito che cosa cambia ecco passare lei è stato uno di quegli definiamoli così eroi che ha preso in mano quella situazione difficilissima io ero a Termoli ricordo perfettamente quella partita che perdemmo a Termoli in Coppa Italia direttanti 1 a 0 poi ci siamo lì andati via due anni dopo se non sbaglio era 2014 29 maggio per poi prendere il grossito a novembre se non sbaglio la domanda è semplice lasciò in quel momento a maggio del 2014 come mai lasciò in quel periodo perché si sarebbe appunto continuare magari con lei un discorso che era diventato sempre più importante all'epoca beh credo di averlo spiegato in qualche circostanza lo ha ribadito anche Tony Osepa avevamo dei punti di vista un po' lontani e mi fermo qui oggi è giorno di presentazione è inutile andare indietro e parlare di quello che è stato però è giusto ricordare mi fa piacere che venga ricordato perché spesso sembra che quei due anni non abbiano avuto nessuna valenza all'interno di questo percorso che oggi ci vede tutti felici non possiamo dire il contrario se ci avessero chiesto sette anni fa circa ma nel 2016 17 proverete a salire in serie B con i vari allenatori che sono passati quindi De Zerbi Stroppa poi Grassadonia ci avremmo messo la firma tutti quanti tra le altre cose sono tutti ex satanelli quindi la cosa credo che avrebbe fatto piacere un po' a tutti e secondo me anche migliorando quello che è stato l'inizio ovviamente quindi credo che sia cosa è cambiato in me sicuramente qualcosa è cambiato anche perché qualche capello in bianco nonostante il gel ce l'ho quindi sicuramente è cambiato però non è cambiata la voglia di essere protagonisti in questa città e come diceva giustamente il direttore è una doppia sfida uno perché sono un professionista e due perché gioco in casa e di solito si dice nemo profeta in padria come se io non mi sento ovviamente sono sotto osservazione perché lo so non solo per il ruolo che ricopro ma perché sono di foggia però io cioè se mi dovessi sentire in difficoltà mi dovrei sentire in difficoltà se sono lontano da casa io spero di non avvertire questo perché se potessi aiutare il mio concittadino lo farei e quindi spero che sia un luogo comune anche se so benissimo che non è facile non lo è stato da calciatore non lo è stato nella mia vita privata quando sei sotto osservazione o comunque sei popolare in una città piccola che non è Milano con tutto il rispetto e quindi foggia ti vedono anche dove non ci sei a volte perciò dal mio punto di vista ripeto è vero quindi non è cambiato niente non è cambiato niente il direttore ora diciamo ha un un socio non indifferente seggio di corcia che quando c'è magari qualcosa che non va gli ho già chiesto abbiamo già fatto però a parte dal mio punto di vista ovviamente non è non manca il desiderio di di essere protagonista nella mia città che è anche la vostra e poi i periodi storici che sono stati sono periodi storici appunto rimangono tali si spera di poterli sempre migliorare attraverso una collaborazione che deve andare oltre quello che è il nostro ruolo io farò sicuramente il mio allenatore ma se posso dare una mano facendo anche un qualcosa di straordinario non mi tiro assolutamente indietro laddove mi venisse chiesto sono a disposizione per il bene sempre di tutti buonasera mister Armando Borrelli calciofoggi.it e blunotai.it ritrova della rosa che ha lasciato due interpreti che sono stati fondamentali in questa rinascita del Foggia che sono Agnelli e Loiacono quanto saranno importanti nell'ingresso anche nello spogliatoio se ne potranno dare una mano nel conoscere meglio anche gli altri componenti e se conosceva già qualcuno dei giocatori presenti in rosa per altre esperienze o per averci giocato contro grazie sì per averci giocato contro sì alcuni ora non sto qui a fare l'elenco sono appena pochissime ore quindi c'è stato da fare ho pensato molto ho dormito poco quindi ma sicuramente la presenza del capitano Agnelli e credo che Loiacono in alcune partite è stato anche il vice è fondamentale non tanto per il mio ingresso anche per diciamo facilitare quella che può essere la mia conoscenza e soprattutto accelerarla dei calciatori che non conosco ma credo che lo sia per lo stesso spogliatoio Cristian non ha bisogno di essere elogiato da me lo manifesta tutti i giorni in tutti gli allenamenti in tutte le gare con i suoi limiti ma è sempre Cristian Agnelli e dobbiamo essere fieri di avere un capitano come lui l'Oiacono che parte sempre all'inizio dell'anno e io ne so qualcosa con qualche penalizzata partendo dalla panchina poi si ritaglia sempre il suo spazio sono uomini di affidamento di fiducia e credo che lo sarà anche quest'anno Buonasera Lello Scarano calciofoggia.it Tu sei stato qualche volta esonerato questa volta subentri conosci chi ti ha preceduto non so se lo hai già fatto lo farai se riterrai utile ascoltare Grassadonia su cosa ha fatto fino al giorno dell'esonero e una domanda che probabilmente ti farà già qualcun altro è se hai idea di quale possa essere il modulo adatto a questo tipo di organico Sì Gianluca lo conosco scelgo di non telefonargli per un motivo molto semplice giustamente come hai detto ho subito degli esoneri alcuni anche diciamo così inaspettati visti i risultati però sai nel calcio poi ci sono anche delle dinamiche che vanno al di là di quello che è il merito sportivo e quindi capisco ovviamente quando sono stato esonerato non ho pensato a chi mi sostituiva mi sono posto delle domande per me non era importante chi mi sostituiva per me era importante il perché siamo arrivati a quello o sono arrivati a quello quindi al di là di chi potesse andare che sia stato nel mio caso Rizzo che era di Lecce o piuttosto che faccio un esempio uno a caso De Canio o un altro nome la mia preoccupazione era quella di capire le motivazioni cosa potessi fare io in futuro per evitare che alcune mie magari errori o alcune mie leggerezze mi potessero creare ulteriori problematiche e se mi avesse chiamato potevo essere anche a lui non di aiuto mi riferisco all'allenatore che mi ha sostituito perché perché in quel momento il tuo stato d'animo non è sereno ce l'hai forse con tutti anche con te stesso e potresti essere non di aiuto di grande aiuto e quindi non vorrei neanche metterlo nelle condizioni e io non mi vorrei tanto far condizionare anche se poi la valutazione rimane la tua quella soggettiva quella che impari a vivere giorno per giorno perché solo quello ti può dare la vera possibilità di un giudizio sereno verso un calciatore verso un componente verso chiunque questo è il mio pensiero sul modulo sul modulo credo che questa squadra ha delle conoscenze e delle certezze avendo poco tempo la cosa più semplice credo sia quella di lasciarli quello che già sanno con dei piccoli accorgimenti altrimenti non sarebbe necessaria la nostra presenza nella speranza così di dare quel qualcosina in più che in questo momento può essere la serenità che forse non c'è perché la reazione credo di poter affermare che c'è stata con Pavone in panchina che ringrazio al di là di quello che è stato il suo piccolo passaggio in prima squadra perché lo conosco ho visto crescere e quindi tutti quegli accorgimenti che possono essere necessari in questo momento dove anche per via delle tre partite che ci troviamo a dover preparare nel giro di breve tempo creare o dare tante nozioni non ha molto senso perché secondo il mio parere si farebbe un po' di confusione quindi alcuni suggerimenti che ritengo attraverso proprio quella conoscenza di cui parlavamo prima possano necessitare assolutamente sì ripeto il risultato gli ha dato ragione e quindi quando vinci ha sempre ragione l'allenatore al di là di se giochi più o meno bene però credo che lui avendo avuto la possibilità anche di passarci più tempo ha avuto queste risposte e quindi dal mio punto di vista è condivisibile buonasera e per me non sapere la gazzetta e lo sport io volevo fare due domande al direttore e due domande al mister se mi è concesso volevo siccome è la prima volta dopo durante questa settimana dalle sonnero in poi che abbiamo la possibilità anche di parlare con il direttore volevo chiarire prima di passare poi all'allenatore come si è arrivati visto che ci sono stati dei colloqui anche con degli orossi con del neri anche telefonici con altri allenatori volevo capire che cosa è successo e perché poi si è arrivati a Padalino sai dal momento in cui abbiamo deciso di esonerare Grassadonia era importante per noi capire chi affida la squadra io penso che sentendo parlare l'allenatore adesso si deve percepire questa presa in carico di responsabilità che con cui lo sta dicendo di essere a Foggia cioè capito dove sta allenando questo penso che sia sufficiente per spazzare via qualche dubbio che magari chi deve fare delle scelte può avere dopo chiaro che deve essere competente deve essere bravo a passare qualche messaggio deve fare qualche accorgimento però comunque c'è una storia da un punto di vista professionale però questa assunzione di responsabilità è pesante ma lo fai con una leggerezza con una tranquillità che secondo me ha colpito io penso che possa aver colpito anche voi nel modo in cui parla è importante tante volte esprimersi ed arrivare tante volte me le fa una parola in più ho detto in un certo modo vale di più di cento esempi quindi questa è una cosa forte che ha colpito la proprietà ha colpito me dopo è chiaro che abbiamo fatto qualche colloquio ci mancherebbe che non abbiamo sentito qualche qualche altra situazione che ci poteva fare piacere però nella scelta ha prevalso alcuni aspetti quindi indipendentemente se ha allenato cosa ha allenato sai in questo momento ci serviva lui in questo momento ci serviva Padalino punto non è che c'è una motivazione precisa perché dopo se avesse la bacchetta magica la motivazione è forte che ha proprio questa assunzione doppia e poi anche con un modo già cioè pronto a me piace questo e dopo sul resto non lo so ci sono degli accorgimenti che magari sentendolo parlare si preferiscono piuttosto che però non c'è 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 la forte scelta di aver scelto lui punto dopo non c'è perché abbiamo qualcuno accettato no si sono messi tutti a disposizione anzi ringrazio senza fare nomi tutti quelli che hanno comunque uno due tre quattro che hanno accettato di ascoltarci di sentire il nostro progetto e di condividere quindi nessuno ci ha rifiutato anzi ringrazio tutti e a qualcuno glielo ho comunicato ieri prima che decidessimo di ufficializzare il mister quindi una cosa siamo andati lunghi ma perché la scelta è forte per la proprietà e anche per me se avete già parlato di mercato visto che tra dieci giorni riapre l'anno scorso si è mosso prima per fare subito un mercato e per dare la possibilità anche perché credo che le tre partite in una settimana che chiusurano il giorno d'andata ci conosciamo non è una scusa è stata talmente frenetica la cosa a preparare la partita c'era Pavone il ministro è da rincorrere è da sistemare alcune cose qualche colloquio quando è arrivato due giorni che ci stiamo parlando da lunedì no in questo momento no ho qualche idea io per quello che vivo la squadra però proprio per rispetto è giusto che al di là che la conosca come di però ci deve mettere dentro il naso un conto conosce da fuori un conto conosce da dentro poi in qualche accorgimento che lui propone è chiaro che ci confronteremo dobbiamo cercare io devo cercare di accontentare non lui cercare di accontentare la cosa migliore per arrivare all'obiettivo quindi da verificare ma penso che sarà abbastanza veloce abbastanza sveglio quindi siamo quasi pronti mister buonasera e ben tornato per lei è un cerchio che si chiude paradossalmente spero di no affoggia no si chiude in questo senso le dico il ritorno nella partita Foggia-Lecce è più o meno anche perché era stata presa male la partita per la Serie B l'hanno un po' condannata per il fatto di essere foggiano forse oltremodo anche perché poi rispetto a quello che è successo in quel campionato torna la B la ritrova con il Foggia che è la squadra per cui tifa nella città dove è cresciuto ha già detto tutto per lei come la vive e come la sta vivendo questa emozione? Ecco come la vivo sinceramente l'ho vissuta veramente in maniera intensa tant'è che parlando anche con insomma i miei figli e la mia compagna di sonno veramente poco ovviamente per la gioia e per quello che è il mio impegno il nostro impegno che dovrà essere da qui al più lontano possibile per cercare di risolevarci un po' un bel po' ovviamente Lecce è una parentesi che che mi ha forgiato mi ha formato al di là di quello che è stato l'epilogo e il finale comunque io devo molto a una società che comunque aveva nelle intenzioni e nella programmazione il raggiungimento della serie cadetta nei due anni tant'è che firmammo un contratto biennale più eventuali poi allungamente ma questo non è importante era per dire che c'era l'idea di fare il salto non ci siamo riusciti la ritrovo a casa mia è difficile trovare le parole è un qualcosa che devo dire la verità anche di inaspettato se vogliamo sempre in cuor mio avevo il desiderio il sogno di un giorno tornare per chiudere il cerchio non questo cerchio perché lo vorrei ampliare un po' di più il raggio però è un qualcosa che in questo momento faccio fatica a spiegare credo che la spiegazione più eloquente ed evidente è la mia emozione anche per esprimere dei concetti molto semplici senza presunzione di solito lo faccio in maniera più leggera però evidentemente deve essere la stessa passione che mi dà quel qualcosa in più proprio perché sono di questa città e quindi siccome la responsabilità che mi sento e che ovviamente condivido con il mio staff e con la proprietà e con la società è tanta il mio il mio sentimento mi deve esattamente spingere a fare questo cioè quel qualcosa in più che tutti si aspettano ovviamente sono qui che ci metterò la faccia sempre perché il ruolo ce lo impone ma non avrò nessun tipo di problema a gestire quelle che potrebbero essere critiche successive ma anche preventive se vogliamo perché è il ruolo che ce l'impone quindi ripeto io mi auguro solo che ci possa essere quella giusta serenità da me il primo per gestire a meglio una situazione che sicuramente va gestita mister che idea della squadra avendo comunque a livello qualitativo anche a livello di singolo calciatore no questo è forse l'organico più forte degli ultimi 10-15 anni a disposizione proprio come Rosa a livello di quantità no Iemmello Galano Mazzeo lo stesso ci sono giocatori di esperienza che hanno fatto tanta B che idea si è fatto e quando ha accettato Foggia siccome la conosceva perché avrà seguito pure la tifosa in diverse partite questa squadra secondo lei che comunque ha 20 punti sul campo anche se ne ha 12 in classifica dove può migliorare dove può essere migliorata e dove intende lavorare posso fare l'esempio la difesa prende tanti golli il reparto forse dove bisognerà lavorarci più lei tra l'altro è un ex difensore quindi può anche lavorarci meglio però a livello qualitativo forse è questo quello che ha anche colpito la proprietà nel momento in cui ha deciso di cambiare il vecchio allenatore perché la scorsa estate ha fatto diversi investimenti proprio per avere un organico e allestire un organico così forte per poter superare gli 8 punti di penalizzazione e poter avere l'opportunità anche di trovarsi oltre la posizione in cui è oggi in classifica diciamo che il tempo non è che mi abbia consentito di poter così entrare tanto nel dettaglio la conoscenza che ho di questa squadra guardandola dalla tv e qualche volta direttamente dagli sparti ovviamente mi agevola in alcune cose però ripeto i calciatori si conoscono o pensiamo abbiamo la presunzione di conoscerli se li alleniamo e a volte anche nonostante ciò forse non siamo proprio in grado di valutarli il fatto che io sia un difensore non vuol dire assolutamente nulla perché non me ne vorrà già Luca ma lo era anche lui quindi però sicuramente il tempo di conoscere di capire anche da un punto di vista fisico da un punto di vista mentale quale possano essere quelle priorità che in questo momento sono venute a mancare agli stessi per cercare di esprimere al meglio quelle che sono le loro caratteristiche perché prese individualmente sono dei calciatori a detta di tutti non solo mia o sua di gente come Galano come Marzeo che non hanno bisogno di presentazioni non a caso il Foggia è accreditata come tra le squadre costruite meglio non è casuale cioè non ti danno certi non ti addossano certi come ti posso dire qualità o caratteristiche se non ce le hai il Foggia è una di queste ora le motivazioni precise io non le so ovviamente avrò bisogno anche di parlare con il direttore sportivo per conoscere meglio attraverso il suo pensiero che ci sta dentro ormai da quasi due anni quindi mi servirà un anno sembra due campionate scusami due campionati quel pensiero che magari dal dal suo punto di vista e dal mio soprattutto può tornare utile per trovare diciamo la strada e la medicina giusta su due piedi sinceramente non è molto semplice ma la cosa che di solito accade è che da parte dei calciatori c'è una reazione e poi il dialogo ti consente di andare a affrontare quelle presunte problematiche buonasera domenico di conza sharing tv ciao prima domanda al direttore sportivo riguardo la situazione di camporese cioè quello che innanzitutto è andato bene l'intervento si sa qualcosa si opera venerdì per quanto riguarda la sostituzione di camporese c'è una priorità rispetto ad altre acquisizioni oppure si aspetta comunque l'abbiamo detto prima non vorrei se mi sa poco non ho senso di se ho fatto male il camporese deve ancora essere operato quindi secondo me la stagione è a rischio però in base un po' dell'attore magari vediamo cosa fare come farlo questo sì oggi al di là di camporese che gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione questa è la cosa più importante però vediamo vediamo abbiamo la rosa tanto comunque non facciamo niente fino al 30 quindi dipendentemente al di là che dobbiamo ancora parlarne andiamo con questi fino a fine andata poi vediamo invece Pasquale siccome innanzitutto non sapevo che fossi un così assiduo frequentatore di supermercati perché tutte le persone dicevano di averti incontrato al supermercato in questo tempo libero facevo anche la spesa per quanto parliamo di cose serie ne avevo di tempo adesso non la farò più allora parliamo di cose serie all'inizio prima che si ufficializzasse il tuo nome la tifoseria aveva uno scetticismo sul tuo nome non tanto per l'esperienza mancante inserirebbe quanto per le difficoltà emerse nello spogliatoio prima dell'esonero di Grassadonia tu hai un modo una ricetta particolare per far sì che lo spogliatoio sia coeso con tutto lo staff non solo con l'allenatore per il raggiungimento dell'obiettivo e per facilitare il tuo compito rispetto agli obiettivi che tu e la società vi siete posti beh messa così sembrerebbe che non ci fosse coesione prima a proposito di spesa parlava di ricette è la cosa messa così insomma suona un po' non ho quella conoscenza oggi per dire se lo spogliatoio possa essere più o meno coeso o quant'altro va bene però non ci sono ricette almeno per come intendo io instaurare un rapporto va bene perché intanto parliamo sempre di ruoli va bene nella stragrande maggior parte dei casi e sono subentrato un paio di volte sono sempre riuscito a fare da collante da questo punto di vista al di là di quelli che poi sono stati i risultati sportivi però diciamo tutt'oggi ricevo attestati di stima da calciatori che hanno condiviso con me un certo periodo di chi giocava che è molto più semplice ovviamente averne ma anche e soprattutto da chi non giocava e questo credo che sia una testimonianza di quanto percepiscano i calciatori al di là di quello che si possa dire della persona che hanno di fronte poi non puoi non essere comprensivo verso tutti è evidente che in questo momento anche la squadra deve essermi di grosso supporto perché ci sono molte cose a cui pensare e loro mi potrebbero facilitare molto il compito al di là delle collaborazioni che ribadisco sono importanti con i miei collaboratori facciamo dei colloqui delle valutazioni ci confrontiamo proprio per sapere anche un'impressione diversa se collimano più o meno quelle che possono essere le mie sensazioni proprio per cercare di anticipare è di arrivare a pensare tutti alla stessa maniera questo è per quanto riguarda il ruolo poi c'è una parte diciamo che loro come professionisti devono svolgere questi sono i primi segnali di Domenico Carella avesse fatto guarda se è capitato proprio tu Domenico Carella casuale dicevo poi c'è il lavoro che ovviamente deve essere inserito per quelle che non posso entrare a così devo sapere cosa facessero prima proprio per cercare di non fare danni cioè inizialmente secondo il mio punto di vista il lavoro dell'allenatore quando subentra è quello di fare meno danni possibili ecco io la leggo così poi nel rapporto con i calciatori è importante quanto riesci a far prendere i tuoi messaggi ovviamente nella maniera più semplice possibile è quello che proverò a fare anche questa volta L'ultima domanda riguarda la penalizzazione del Foggia come si supera mentalmente questo problema del sempre del rincorrere costante una penalizzazione che speriamo venga ridotta il prima possibile perché così almeno abbiamo una classifica più reale io non la vivo la penalizzazione perché per me non c'è la vissuta ahimè il mio predecessore quindi per me vale da domenica in avanti quello che è stato ovviamente lo so lo sappiamo tutti credo che sia anche il caso un pochettino di come dire metterci una pietra sopra quello che sarà sarà al di là dei due tre punti di cui si parla se ci verranno o meno restituiti ma il nostro obiettivo e la nostra strada non deve cambiare quello che è è il Foggia parte alla pari con alcune sicuramente non con altre e l'obiettivo è quello come si supera è stata superata ampiamente non ci voglio neanche ritornare più sopra perché oggi non ha veramente senso c'è altro a cui pensare buonasera mister Domenico Carella Corriere da mezzogiorno e Foggia Sport 24 sono lontano adesso l'interruttore a parte le battute ha avuto il primo impatto con la squadra sicuramente nelle ultime ore cosa ha chiesto come prima cosa ai ragazzi o cosa chiederà magari nell'immediato futuro ai ragazzi dal punto di vista si è parlato tanto tecnico ma anche a questo punto mentale la seconda domanda ed ultima riguarda sempre il campo perché da qui al 30 di dicembre l'ha detto lei ci saranno tre partite ravvicinate due in trasferta una in casa contro il Verona che tra l'altro è una delle candidate almeno sulla carta a poter fare il salto di categoria che calendario è un commento a questo calendario grazie vabbè diciamo che nello specifico della partita che andremo ad analizzare prima di domenica e delle future forse è il caso di non soffermarci molto perché della conferenza tecnico tattica di quella che può essere poi ne andiamo a discutere magari il giorno della conferenza oggi è il giorno di presentazione comunque oltre alla tecnica e alla tattica in questo momento ai ragazzi ho chiesto non un sacrificio una disponibilità verso ognuno di loro perché credo che sia il metodo è la maniera più facile per uscire da certe situazioni in questo momento c'è anche un pochettino di magari mancanza di fiducia perché tutti ci aspettavamo un qualcosa le reazioni anche esterne incidono su quelle che possono essere i caratteri di ognuno di noi giovani più o meno giovani c'è chi riesce a magari a gestirle un po' meglio come Iemmello Mazzio Agnelli che sono gli esperti magari qualcun altro un po' meno che anche di fronte a questo loro devono avere quella forza di sorreggere il proprio compagno che all'interno di periodi come questo possono tornare utili proprio per uscire forgiati e forti più forti di prima da situazioni che non sono compromesse assolutamente è un periodo di difficoltà che va superato punto un segnale forte ce l'hanno dato venerdì contro una squadra candidata ad alte classifiche forte a mio parere e quindi credo che sia un buon punto di partenza buonasera mister bentornato Raffaele Fiorella Gazzetta del Mezzogiorno le chiedo sul campionato di serie B per ciò che ha avuto modo di vedere nella passata stagione e in questa finora che idea di questo campionato che mi sembra molto più più duro dell'anno scorso essendosi le squadre ridotte da 22 a 19 insomma non è un luogo comune che la prima possa perdere o pareggiare con l'ultima come è accaduto proprio nell'ultimo turno Palermo Livorno in generale la serie B è questa nel senso che di solito due o tre risultati positivi ti cambiano le sorti o apparentemente te le possono cambiare dandoti quella sensazione di beneficio ok e viceversa nel momento in cui non dovessi avere quella bravura o fortuna di inanellare due o tre risultati e quindi cadere nella più facile delle lasciatemi passare il termine depressione è un campionato che ovviamente è un po' anomalo rispetto a quelli degli anni precedenti però l'abilità e la forza di ognuno di noi deve essere quella di un adattamento veloce è un campionato lungo che ha bisogno di tanta convinzione e che proprio per come lo spiegavi benissimo la prima può perdere con l'ultima nulla bisogna dare per scontato ancora di più se sei in una situazione come la nostra dove c'è la necessità di recuperare quelle posizioni che ci competono cosa cosa ha pensato quando si è capito che il Foggia avrebbe cambiato allenatore quanto ci ha sperato cosa ha pensato quando le è arrivata la telefonata i primi pensieri è stato un fulmine a Cersereno perché stiamo parlando di una telefonata che è avvenuta un paio di giorni prima della gara di venerdì ovviamente è stato non dico un colpo al cuore ma poco ci è mancato insomma ma perché perché ripeto non era c'era un qualcosa che almeno ti rappresento quello che sento io che provavo io un qualcosa che ti porti dentro un giorno chissà magari può succedere ma non c'era nulla che potesse far presagire un mio ritorno cioè anche perché insomma in cuor mio speravo che il Foggia facesse il suo percorso come l'ho sperato anche negli anni precedenti però quando poi si parla di lavoro per tornare alla partita Foggia-Lecce che perdemmo qui io faccio il professionista se mi viene chiesto un pensiero vengo sollecitato a pensare ad una possibilità così grande sfido chiunque a non prenderla in considerazione poi gli eventi hanno dato ragione alla nostra se vogliamo strategia perché in qualsiasi colloquio che si faccia al di là di quello che nessuno mi può contestare la passione di allenare nella mia città e per la mia squadra ognuno poi si gioca le sue carte questo è il nostro mestiere questo ci siamo scelti abbiamo scelto di fare e quindi oggi come oggi credo che tutto ciò che c'è intorno sinceramente mi interessa poco sono uscito sto uscendo un po' fuori tema però ribadisco il campionato è lungo ci sarà da lavorare non lo dico io lo dicono i fatti occorre avere quella positività e quella continuità nel cambiare nel voler cambiare le sorti personali e collettive di una squadra che non merita di stare nella posizione in cui è questa è la mia convinzione è la convinzione di tutti ovviamente poi volevo chiederle nell'anno di seconda divisione lei adottò costantemente la difesa a tre se non ricordo male poi variando tra centrocampo e attacco a seconda delle necessità delle esigenze partita per partita immagino si possa proseguire su questa linea oppure no non lo so me lo dirà lei se sì in quest'ottica quale può essere la collocazione ideale per Galano un calciatore che come altri ha bisogno di trovare continuità rispetto al quale si è dibattuto tanto finora da inizio campionato sulle diverse posizioni insomma che potrebbe occupare o in cui potrebbe essere più incisivo e funzionale per la squadra grazie sì credo che sia proprio per quello che dicevo prima non mi ripeto in questo momento non ho nessuna intenzione di stravolgere proprio per evitare di creare ulteriore problematica laddove ce ne fossero la posizione di Galano che è un calciatore dal quale tutti ci aspettiamo qualcosa in più è un calciatore forte può giocare ovunque basta che gli fai arrivare la palla ovviamente avrà le sue preferenze come tutti ma immagino che in questo momento anche un suo senso di adattamento al di là di quello che lui preferisce credo che sia secondario rispetto alle priorità della squadra questo vale per Galano ma vale per tutti perché in questo momento proprio per quello che dicevo prima è fondamentale che si guardi al collettivo poi la possibilità di poterlo schierare in un 3-4-3 in un 3-4-1-2 sono numeri per me rimangono tali l'importante che ci sia da parte di chi viene chiamato in causa quella predisposizione a fare anche quel qualcosa che forse non si sente addosso proprio per mettere davanti a tutto l'importanza di una squadra e non di se stesso Alla luce di quanto detto sull'analisi della situazione attuale quindi già fatta ampiamente oggi c'è una situazione mediatica un po' particolare c'è un peso della pressione che è diventato importante imponente in questi ultimi 20 giorni con l'esperienza dei suoi giocatori più importanti che lei ha già citato è più semplice cercare di far sopportare questa pressione agli altri o magari far tornare l'importanza sul lavoro quotidiano e far scendere un po' i toni Io credo che l'importanza del lavoro ci fosse anche prima non credo che Grassadonia sottovalutasse questo aspetto ma credo che la pressione non va sopportata c'è hai deciso di indossare questa maglia ti si è assunto l'onore e l'onere di rappresentare la città la società in tutto e per tutto e quindi è un'assunzione di responsabilità che credo ognuno di noi ha fatto consciamente non certo in maniera superficiale perché come dicevo prima non c'è questa possibilità a Foggia al di là del campionato che stai facendo c'è una richiesta sempre elevata puoi fare sempre di più sempre di più perché c'è questa abitudine a vivere il calcio in questa maniera c'è poco da fare questa è la realtà dei fatti e non la posso cambiare certo io e quindi se sei qui a Foggia devi rappresentarla al meglio e devi aspettarti anche delle pressioni che ovviamente vanno condivise perché riguardano tutti ma chi ha la possibilità e sa di poterle gestire deve dare una mano magari a chi chi non le sa gestire vuoi per l'età vuoi perché magari ha vissuto altre realtà il nostro compito è anche quello e da questo punto di vista mi sento di chiedere una mano e vivere il momento non solo sentendosi parte integrante esternamente e quindi come tifo del quale non ci possiamo assolutamente lamentare l'anno scorso credo che siano stati anche premiati come la miglior tifoseria quindi parla da sé non ho bisogno di commentare altro però in alcuni momenti bisogna avere quella sensibilità magari mettendo da parte anche l'esigenza del tifoso personale per dare quel sostegno che occorre per venire fuori da una situazione che oggi non ci vede sereni non ci vede col sorriso sulle labbra però è proprio da questi momenti che poi potremmo domani abbracciarci e condividere questo sorriso che tutti si aspettano quindi a parte di tutti chiedo personalmente uno sforzo come mi sarà chiesto a me e come è stato chiesto ai calciatori che si sentono responsabili in una città esigente ma non dico nulla di nuovo sia da un punto di vista della tifoseria sia da un punto di vista della stampa questo è alla luce del sole e quindi anche in questo non siamo cambiati che abbiamo impegno che in due a